Come è stato? Un saluto ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, a iscrivervi al nostro canale YouTube e a lasciare un bel like qui sotto. Vi ricordo che domani assegneremo la maglia come questa del vostro giocatore preferito per provare a vincerla gratuitamente. Scaricate l'app di numero 10 dal link qui sotto, da questo link direi ora o mai più. Quindi affrettatevi, fate scaricare anche amici e parenti soltanto da questo link, una volta che entrate specificate la squadra del vostro cuore. Qui sotto commentate con il vostro nome. Allora ragazzi, parliamo di mercato Milan con un aggiornamento. Ovviamente il mercato adesso non è nella fase più calda, ma il mercato non finisce mai. Attenzione perché per il grande colpo che il Milan credo che farà non a gennaio ma alla prossima estate, ovviamente si inizia a guardare, si inizia ad approfondire. Ricordo che l'Oftus Cic ne parlavamo già un annetto fa e poi è arrivato appunto in estate, quindi più o meno la tempistica era questa. Attenzione a un grande giocatore, un grande giovane di 20 anni, Benjamin Sesko. Sloveno 1,94, gioca nell'Ipsi a scadenza 2026, che piace a tanti ma piace anche al Milan. Questo ve lo posso confermare. Quest'anno ha fatto due presenze, due gol in Bundesliga. Lo scorso anno Bundesliga-Austria-Casalisburgo, 30 partite, 16 gol e 4 assist. È chiaro che strapparlo all'Ipsia non sarà facile, ma è un giocatore destinato a diventare secondo me un top incredibile. Ma proprio incredibile. A oggi non dico i livelli di Holland, ma secondo me può avvicinarsi, può andare più o meno da quelle parti lì, quelle degli extraterrestri. Ricordiamo che ha appena 20 anni, piace molto al Milan, piace anche ad altri club. È chiaro che il Milan per provare a prenderlo deve o fare una cessione illustre il prossimo anno e destinare parte del ricavato a Sesco, oppure muoversi in anticipo e cercare già di trovare accordi con l'entourage, sperando che non diventi troppo forte quest'anno. È una parabola da monitorare la sua, un rendimento da monitorare costantemente, però è un profilo che piace molto al Milan, per me sarebbe probabilmente il top per anche proiezione futura. Che ne pensate? Commentate qui sotto, iscrivetevi da questa parte, lasciate un like, e scaricate l'app di numero 10 per provare a vincere la maglietta. Qui sotto il link è un'app molto ben fatta. Ciao!